il via la quinta di Napoli partiti in vantaggio si porta Pete Bibb nei confronti di Pistonesi che si sistema in seconda posizione all'esterno poi a largo in terza e compound davanti a Baia Imperiale che ha preso il quarto posto in corda con ai fianchi Geita seguono Armon Blue quindi ancora Fly By Wire ed in coda Nemesis Cavalli ora lungo la curva e prossimi all'ingresso in retta d'arrivo con Pete Bibb e Pistonesi in vantaggio Pistonesi sceglie il centro della pista mentre Pete Bibb si sposta leggermente all'osteccato all'interno avanza con la sette Baia Imperiale si propone anche Geita Pete Bibb in vantaggio Pistonesi e Geita all'inseguimento dietro i due si presenta compound davanti a Guy Goal siamo a 300 dal palo c'è lotta tra Pistonesi a centropista all'interno Geita e ancora più all'interno Pete Bibb in fase calante sta passando Pistonesi Geita cerca di reagire ma Pistonesi sta passando a centropista e nel tratto finale Pistonesi che si impone davanti a Geita mentre finisce bene al terzo posto Armon Blue su Pete Bibb avversario dunque il numero 6 Pistonesi Salvatore Basile in sella con Angelo Candy trainer e proprietario il grigio si è è passato in vantaggio nel tratto conclusivo e si è imposto bene alla distanza nei confronti del numero 8 Geita e del numero 4 Armon Blue quindi l'arrivo probabile ufficioso della quinta di Napoli vede al primo posto il 6 di Pistonesi al secondo l'8 di Geita e al terzo il quarto di via il video